Dopo l'instabilità atmosferica dei giorni scorsi si prevede un aumento delle temperature tra il 4 e il 6 settembre grazie al ritorno dell'anticiclone africano. Tuttavia questa volta non assisteremo a un'ondata di calore così intensa come quella verificatasi durante i mesi precedenti. In realtà è possibile affermare che specialmente nelle regioni del centro-nord la stagione estiva è già giunta al termine. Le prospettive meteorologiche per i prossimi giorni e le prossime due settimane di settembre sono state condivise dal colonnello Mario Giuliacci, esperto meteorologo e direttore operativo del sito meteogiugliacci.it. Durante un'intervista a fanpage.it ha delineato il quadro delle condizioni atmosferiche che influenzeranno il nostro paese nel prossimo futuro, proprio mentre la maggior parte degli italiani farà ritorno dalle ferie estive.